Ciao a tutti, si va alla scoperta della flora dei posti nuovi. Sabato 20 maggio io vado fino alle Marche per guidare una escursione botanica nel parco del mulino Terra Madre. Vado a conoscere questo posto, le specie che crescono là, ma anche incontrare le persone del logo delle precedenti generazioni che ancora portano avanti tradizioni di utilizzo delle piante spontanee mangerecce medicinali. Tutti insieme guideremo una passeggiata botanica, dopodiché creeremo una sorta di fitomappa di specie che crescono là. Sarà molto interessante, tutte le informazioni sull'evento troverete sulle pagine Facebook Navigando nel Verde e Associazione Rasalina. Venite nelle Marche con me e andiamo per erbe insieme!